Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Domenica mattina in centro torna l'appuntamento con l'appia RAN, partenza e arrivo. Saranno in via delle terme di Caracalla, previste chiusure al traffico, deviazioni per il trasporto pubblico. Cominceranno lunedì invece a Centocelle i lavori di rinnovo dell'asfalto nello spazio della sede tramviaria di Via dei Castani. Sono previste modifiche per le linee 5, 14 e 19. In particolare da lunedì fino al 28 aprile e poi nelle giornate tra il 2 e il 5 maggio, le linee 5 e 14 unificheranno il loro percorso tra Viale Togliatti e la stazione Termini. Sarà attiva un'unica linea, la 514. La linea tram 19 invece limiterà le corse a Largo Preneste. Tra Largo Preneste e Piazza dei Gerani sarà attiva la navetta Bus 19. I dettagli su romamobilità.it